buongiorno sono laura antichi oggi vi voglio presentare uoclet per aggregare risorse ci colleghiamo al sito uoclet.com questa è la mia dashboard bisogna registrarsi l'ho già fatto e volevo dirvi che è un'applicazione free per aggregare risorse testi multimedia video link in collezioni tematiche la creazione può essere partecipata dalla collaborazione di altri utenti non si limita solo alla raccolta di link e informazioni ma permette di commentarle e di valutarle attraverso l'inserimento di testo che serve per introdurre le risorse è possibile aggiungere alla nostra uoclet al nostro uoclet dei collaboratori cosa troviamo nell'interfaccia di uoclet la casella search e quindi per cercare degli uoclet il bottone uoclet e vedete qui i uoclet che sono stati creati dai vari utenti e poi nei tre puntini possiamo vedere che abbiamo la possibilità di visualizzare il nostro fabbrica profilo di vedere gli spazi che abbiamo creato il nostro account e poi abbiamo anche a disposizione le app le applicazioni da scaricare sui nostri dispositivi a mobile ora ritorniamo in home in home come vedete abbiamo la possibilità di scaricare l'estensione download the free worklet browser estensione per chrome file fox e edge nella parte sinistra della finestra abbiamo insieme delle collezioni dei bookmark e dei gruppi di collezione per molto semplicemente si va in create a new collection perché adesso noi partiremo creando una collezione con il più inserisco una cover image la posso fare uploadandola dal dal mio computer upload an image oppure choose from a library upload an image quindi la vado a prendere prelevare questa apri ecco questa è l'immagine che ho scelto quindi mi sta bene potrei anche come vedete modificarne l'ampiezza save questa quindi è l'interfaccia ora vado a mettere uno sfondo a questa immagine principale agendo alla mia sinistra sulla rotella e clicco su add e background image e questa volta la posso scegliere from library dopo la posso modificare quando ho voglia prendiamone una così a caso sembra che ci soddisfi e vedete che quindi è stata inserita anche questa aggiungiamo un titolo alla nostra collezione quindi ho scritto il titolo descrivo da una descrizione corso di formazione posso anche scrivere altro e poi una volta dato il done come vedete vado in edit collection per poter andare avanti ad aggregare risorse e clicco sul più con il più ho la possibilità di di incollare un indirizzo di aggiungere del testo di aggiungere un video youtube un tweet un bookmark un'immagine uploadare un pdf un documento da google drive da one drive e anche inserire un video da flipgrid quindi ottima l'integrazione e la possibilità di integrazione con flipgrid ok allora vado sul più sul più voglio aggiungere del testo e aggiungerò in effetti come testo modulo 1 modulo 1 del corso posso dare una formattazione innanzitutto lo allineo al centro e do dal momento di un titolo il do anche l'intestazione lo stile di intestazione come vedete posso comunque aggiungere delle note degli highlight e ricercare con google come vedete ecco però non mi porta a altri dei risultati ritorno in un booklet come vedete posso anche inserire se voglio un link mi basta per il momento aggiungere questo e quindi vado in done ok quindi l'intestazione della testuale della parte del modulo 1 è fatta quindi posso ritornare indietro a editare se non mi piace posso anche come vedete cancellare di seguito aggiungo le altre risorse relative al modulo 1 potrei dare una descrizione più dettagliata ad esempio del modulo 1 editando editando il principio della trasmigrazione del cambiamento clicco ora su done e vedete comparire il modulo 1 con poi il testo che ho appena inserito posso aggiungere adesso mi è venuto in mente di aggiungere anche una immagine che rappresenti il modulo 1 upload e image quindi la vado a scegliere tra le mie immagini ne avevo salvato una questa apri e quindi che faccia un po' da intestazione a poi i materiali del modulo 1 ecco quindi l'immagine che è comparsa modulo 1 praticamente una descrizione del modulo 1 adesso aggiungo il primo materiale a questa raccolta a questa collection e quindi aggiungo un link è una presentazione come vedete e quindi faccio done questa presentazione come vedete mi è scappata sotto ma niente paura il modulo 1 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 lo posso spostare trascinandolo sopra ecco fatto quindi questa è praticamente come vedete l'organizzazione dei materiali posso cambiare il layout della di questa raccolta ad esempio ora sono in questa visualizzazione di media view potrei scegliere un compact view, un grid view o un mood board proviamo con grid view e vedete che l'impaginazione è più diversificata sicuramente è diversificata questo per quanto riguarda poi la prima aggregazione di contenuti poi si procede con l'aggregazione degli altri contenuti alla fine noi dobbiamo andare a impostare il private ossia se di default è impostato su private però è accessibile solo noi potrei impostarlo su a public e sarebbe visibile nella directory di worknet pubblica unlisted coloro che hanno il link possono accedere quindi direi unlisted quindi abbiamo organizzato questo padre in maniera tale che chi ha il link possa accedere posso anche andare in invite e quindi dare il link o il code mettere la username o email e copiare questo link ho a disposizione come vedete un codice qr e un codice del per entrare un numero di codice per entrare posso comunque in questa maniera invitare coloro che possono dare una mano un contributo per la realizzazione di questo ok quindi potrei qui a mettere l'indirizzo di chi voglio che partecipi al mio ok quindi come vedete posso ritornare sempre indietro a cambiare il background image posso condividere e copiare e permettere agli altri di duplicare anche la mia collezione e anche da qui posso attivare il tasto collaboration contributor editing items quindi che permetto a tutti coloro che contribuiscono di editare e delete e di cancellare tutti i gli items nella collezione lo disattivo naturalmente posso delete collection e come vedete qui in setting posso comunque ritornare a ridare così delle impostazioni al mio booklet clicco su ora done vado ora nelle mie collezioni qui vedete tutte le collezioni che ho creato sulla sinistra quindi le collezioni che compaiono sono 26 i bookmarks 251 i group collection 2 è molto interessante la funzionalità degli spazi spazi di walklet perché sono una funzione organizzativa per le collezioni da condividere negli space si possono quindi spostare contenuti creati o crearne di nuovi possono essere gli space possono essere gli space collaborativi aggiungendo membri con invita a membro condividendo il link il codice o il qr con studenti o colleghi che possono aggiungere risorse queste queste vedete sono ad esempio questo il corso è una collezioni che ho chiamato proprio approccio alla dad adesso noi andremo comunque a creare una collezioni uno space che avevo quindi creato per proprio riunire diverse collection che riguardavano la dad allora si possono creare degli spazi degli spazi per il materiale scolastico creare uno space per ogni materia creare progetti di gruppo con studenti abilitando la collaborazione il docente può creare uno spazio per ogni studente questo può creare il proprio dentro il proprio portfoglio di risorse che poi può condividere anche con i genitori i gruppi possono essere differenziati per colore o come vedete per immagine e individualizzazione quindi è molto interessante creare spazi per creare spazi per ogni valutazione formativa creare spazi per ogni mese in modo che le famiglie possano accedere come ad una newsletter questi spazi creare spazi per ogni piattaforma che si usa quindi gli spazi sono anche integrabili in microsoft teams e in google classroom si possono creare spazi di facc insomma tantissimi generi di spazi per organizzare meglio le risorse e renderle disponibili quindi come si fa ad aprire uno spazi molto semplicemente con il più con il più si fa va a create or join a space qui metteremo una ad esempio immagine quindi l'immagine la possiamo quindi quindi change image uploadandola dal nostro pc oppure dalla dalla public library questa ok prendiamo una dalla public library esempio questa se vi sta bene questa oppure la potete poi sempre personalizzare se vi sta bene questa oppure la potete poi sempre personalizzare lo chiamo prova e se potrei anche accedere allo spazio con codice se avessi un codice allora cliccarei qui oppure vado a creare lo space oppure lo cancello create quindi ho creato il nuovo space qui ho lo space setting quindi vado a vedere nello space setting che posso quindi cambiare la foto cambiare il titolo cambiare tutto insomma e poi salvare oppure delete questo space ok posso comunque andare nella edit profile dice quindi potrei attivarlo ma ci penserò dopo dice che ogni spazio e il suo profilo per impostazione predefinita quindi profilo non è visibile a nessuno e sono rilevabili solo le raccolte pubbliche se il profilo è pubblicato tutte le raccolte pubbliche all'interno dello spazio verranno visualizzate nel profilo però si può modificare il tutto se il profilo è pubblicato se il profilo è pubblicato e tutte le raccolte pubbliche all'interno dello spazio verranno visualizzate nel profilo quindi quindi ritorniamo nel nostro space prova e posso qui create a new collection alla solita maniera di prima un titolo un titolo metto anche una cover la scelgo dalla library ecco poi entro con un titolo di questa collezione e quindi scrivo prova Anitel Anitel metto una descrizione questa è una prova ecco e quello che volevo dire che poi vado posso andare ad aggiungere alla solita maniera come prima i contenuti o la l'indirizzo web oppure il testo oppure un video youtube e tutto il resto ok faccio vado dopo la compilerò vado su Dan e quindi vedete che in questa in questo spazio che si chiama prova io ho una prova Anitel cioè un file Anitel ora andiamo a vedere come spostare eventuali contenuti copiare dentro l'uoclet vado in uoclet ad esempio in le rubriche valutative vado nei tre puntini e qui posso move collection e la posso spostare in prova quindi move vedete move ora andiamo nella collection prova e vediamo che compare sia la prova Anitel che le rubriche valutative che ho spostato qui quindi ottima questa funzionalità di uoclet che rende possibile aggregare ulteriormente organizzare le risorse per la didattica di che ho 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 che ho 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 ho